Uomini e donne, ex corteggiatrice di Luca D'Affrello sui social, ecco cosa ha pubblicato Chiara Nobis. Non si può di certo dire che il trono di Luca D'Affre sia poco movimentato, almeno non al di fuori degli studi di uomini e donne. Da quando è stata mandata in onda la clip di presentazione dell'ex naufrago, secondo classificato della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, intorno a lui si è creato un vespaio. Solo voglia di apparire o il ritorno alle origini è autentico? Si tratta per Luca D'Affrello di un'occasione lavorativa o l'uomo sta davvero cercando l'amore della sua vita? In attesa di sciogliere tutti questi amletici dubbi, negli studi del dating show di Maria De Filippi stiamo assistendo a un po' di marette fra Luca molto esigente e spesso anche diffidente e le sue corteggiatrici. Dopo aver eliminato Alessia Spagnulo, a causa del comportamento scorretto dell'agente della ragazza, Luca D'Affre ha assistito anche all'abbandono di Chiara Nobis. L'ormai ex corteggiatrice di origini napoletane ha deciso di lasciare il programma dopo una serie di incomprensioni con il tronista. I due hanno avuto una discussione molto accesa dopo la seconda esterna, alla richiesta di un abbraccio da parte di Luca. La ragazza si è rifiutata. Successivamente ha scelto di auto-eliminarsi. E come Alessia, che non si è di certo risparmiata contro l'extronista attraverso alcune parole al vetriolo nel corso di un'intervista. Anche Chiara è sbottata sui social riguardo al percorso di D'Affre. Pochi giorni fa, la Nobis ha iniziato a prenderlo in giro attraverso alcune foto ironiche pubblicate sul suo profilo Instagram che non lasciano affatto spazio all'immaginazione. Come possiamo vedere dalla gallery, l'ex corteggiatrice del dating show non si è certo risparmiata. Tirando in ballo anche facile hit. E la parola business, che risuona tanto blasonata fin da quando Luca ha messo piede negli studi di uomini e donne. Grazie. Grazie.